Nessuna parola fine ancora a Carmignano di Brenta, la querella che contrappone il comune alla ditta proprietaria di un allevamento di maiali e che chiede la possibilità di ampliare la propria attività. Ottenuto il via libera dalla conferenza dei servizi lo scorso aprile, l'azienda ha visto l'iter bloccato con parere negativo vincolanti in ambito ambientale ed edilizio urbanistico dal comune di Carmignano di Brenta. Contro questa decisione l'azienda ha deciso di presentare un ricorso al TAR contro il quale il comune nel corso dell'assemblea pubblica tenutasi ieri sera nella sala consigliare ha annunciato la presentazione di un contro ricorso, come spiega il sindaco di Carmignano di Brenta, Eric Pasqualonna. Non siamo contro le aziende agricole ma siamo soprattutto per il rispetto delle regole e la tutela della salute dei nostri concittadini. Per questo ringrazio il comitato dignità e salute di Via Colombare e tutte le cittadinanze che ci ha supportato in questa nostra azione legale.